Ebbene sì, è successo, mi hanno rubato l'iPhone. Dal video scorso, come avete visto, non avevo più il mio iPhone 12, bensì il mio iPhone XS. Ed è molto tempo che è successo perché ho avviato un'indagine su scala globale, che ha coinvolto i carabinieri e tutti quelli che potevo coinvolgere. Tutto inizia a gennaio 2023, quando io stavo tornando dalla vacanza a Bucarest. Io pensavo che, se mi avessero dovuto rubare qualcosa, comunque, sì, l'importante sarebbe successo in Romania. Invece no, succede in Liguria, sul treno di ritorno. Infatti, tipo verso finale Ligure, vedo che non ho più il mio iPhone, perché ero tipo in una condizione di mezzo addormentato, con l'iPhone in mano. Qualcuno deve essere riuscito a passare e sfilarmelo dalla mano. Inizialmente non pensavo me l'avessero rubato, tanto che ero andato da un'altra passeggera e gli avevo chiesto, puoi farmi suonare il telefono? Gli ho dato il mio numero, lei ha chiamato e nessuno ha risposto. Quindi, chiaramente, non era più con me. Andando una carrozza avanti, avevo visto che c'era un passeggero disperato, perché non riusciva più a trovare il suo iPhone. Gli avevano rubato anche a lui. Quindi, insomma, ero preoccupato. Appena ho rubato l'iPhone, avevo due possibilità. Arrendermi e quindi resettarlo da remoto tramite l'applicazione di Find My, che sarebbe stata l'opzione migliore per la preservazione dei miei dati. Oppure, seconda opzione, segnalarlo come rubato, quindi bloccarlo in teoria e mandare un messaggio sullo schermo del telefono che diceva una roba del tipo Se trovate questo iPhone, chiamate questo numero. Io ho fatto questa seconda opzione, perché così potevo continuare a ricevere le informazioni sulla rete Find My, chiaramente, e trovare questo ladro. Sono riuscito, tramite la passeggera, ad avere di nuovamente internet e a sfruttare il mio MacBook. Infatti, tutti quanti abbiamo una funzione sull'iPhone che è abbastanza bastarda e se siete dei ladri, non fatelo di rubare, perché questo vi potrebbe davvero sbattere in carcere. E io sono arrivato a una distanza di pochissimi metri dal mio iPhone, grazie a questa funzione. Quest'ultima è la rete Find My. Infatti, se apro dove è? Adesso non lo apro, perché altrimenti vedete la posizione di casa mia. Comunque, in ogni caso, vi mostra tutti i vostri dispositivi Apple su questa rete. Quest'ultima viene aggiornata frequentemente tramite i tuoi altri dispositivi Apple. Infatti, rilevano la posizione del tuo corrispettivo iPhone, MacBook, eccetera, e la mandano in questa rete e permettono quindi a te di vedere la posizione di tutti i tuoi dispositivi. Chiaramente, se non vi sono dispositivi Apple nelle distanze, nei paraggi, non avrai la possibilità di capire la posizione del tuo dispositivo se non acceso, chiaramente. Però, la cosa bella è che, se il tuo iPhone comunque è spento, potrà essere rilevato dagli altri dispositivi. Quindi, anche se questo ladro ipotetico avesse spento il mio iPhone, io, con questo mio vecchio iPhone, posso comunque andare a rilevare la posizione del mio nuovo iPhone, che oramai è rubato. Col MacBook, quindi, me lo sono tenuto sulle gambe per tutto il viaggio e guardavo l'aggiornamento della posizione di questo iPhone. E questo ladro era furbiscamente asceso a finale Ligure, fino ad arrivare nella mia stessa città, Imperia. E c'è stato per diversi giorni. Per questo, quindi, ho iniziato una serie di indagini per la posizione sempre più accurate di questo dispositivo. Infatti, chiaramente, la posizione è molto approssimativa, soprattutto col passare del tempo. Se il mio iPhone viene rilevato da un altro iPhone, a mezzogiorno, per le 8 di sera, ti dirà che è molto approssimativa la posizione dell'iPhone in quella posizione che è rilevato dall'iPhone a mezzogiorno. Quindi, io tutte le volte andavo e se mi rilevavo una posizione diversa, corrivo e cercavo di renderla ancora più precisa, andando vicino col mio di iPhone a questa posizione. Questo è successo la prima volta quando sono andato a vedere la posizione qui. Nella salita della marina ad Imperia, me lo trovavo in questo punto. Come vedete, c'è un'area blu che indica il range di possibilità dove questo iPhone potrebbe essere presente. Lasciate perdere che nella parte sotto il nome dell'iPhone vi è scritto una via ed ha anche un numero civico. Chiaramente così è molto probabilmente imprecisa. Questo numero civico continuava ad apparire e mi ho deciso di andare, avvicinarmi al luogo. Mi sono avvicinato e ho fatto una foto lì davanti, anche alle persone che passavano. Insomma... Avevo chiaramente 3.000 sospetti. Tutti, qualsiasi cosa, avrebbe potuto contenere il mio iPhone. Quello che mi ha dato chiaramente più nell'occhio è stato questo cancello, che era disassato. E la prima cosa che ho pensato è, sarà qua dentro. Però mi sono avvicinato ancora di più. Come vedete c'è l'icona del mio Apple Watch, perché ce l'avevo al polso quando ero andato a vedere. E quella era la mia posizione effettiva. E lui mi diceva che era nell'angolino di quella casa. E io mi sono detto, proviamo a girarci ancora un po' intorno. Come vediamo continua a girare e sembra sempre essere lì. Come vedete questo è l'angolo della casa. Lui dice che era lì, non lo so signori. O l'ha lanciato sopra o comunque io non sono riuscito a vederlo o a farlo suonare. Perché la cosa bella è che puoi premere il pulsante, fai suonare e se è acceso, o forse anche spento, non lo so onestamente, lui dovrebbe farlo suonare. Io non ho sentito nessun suono, quindi non ho potuto verificare. Mi sono avvicinato talmente tanto che il dispositivo Find My di Apple pensava che ce l'avessi in tasca. E quindi mi dice, hai dimenticato l'iPhone, non andare senza lasciarlo lì. E volevo veramente mangiarmi le mani. Qua dice un indirizzo precisissimo, però non posso essere sicuro di questo. Perché io ho pensato, trovo l'appartamento, il posto, la macchina, la moto in cui è presente questo dispositivo, vado dalla polizia e gli dico, entrate lì, perché chiaramente non posso entrare in casa da solo. Fai questo qua, è un criminale, mi spacca la faccia. E poi come fai a dire, e ti entro in casa. Però su basati sospetti credo che possano farlo. Camminando un po' lì per la strada, vedo che la posizione si è aggiornata del mio iPhone. E mi ha detto che era come in quel posto lì, questo pezzo di strada. Onestamente non ho capito, quindi ho provato a fare le foto a tutti i veicoli presenti e vedere se, magari cambiando la posizione nel tempo, questi veicoli potessero contenere questo iPhone nella nuova posizione. O comunque ve ne fossero di simili, poi andavo e controllavo la targa. Quindi sì, ho provato a suonare di nuovo vicino a queste macchine, ma non ho sentito il suono. La situazione si è aggiornata, siamo il giorno dopo, l'11 gennaio, e vedo che la posizione del mio iPhone cambia e si avvicina in questo posto qui dove ho scattato queste foto. Inizialmente avevo chiaramente dei dubbi, non sapevo se potessero essere vero o no. La posizione è data dal mio iPhone e per questo mi sono detto, giriamo qua nella zona, continuiamo. La posizione era molto ampia purtroppo e quindi anche lì non ho avuto novità. Però ho avuto un'idea furba, alzare il drone da casa mia, per farlo capire, è così vicino a casa mia che posso alzare il drone e farlo arrivare sul posto e farlo tornare indietro, consumando neanche un 20% di batteria. L'ho fatto per vedere se vi fossero delle macchine simili a quelle che avevo incontrato quando era in quell'altra posizione. Però purtroppo non ho incontrato sospetti simili, quindi ho maturato l'idea che o era nascosto tipo per terra, però non credo, dato che ho un iPhone costoso, oppure era all'interno di un appartamento. Quindi questa era la mia seconda ipotesi, tanto che nel corso del tempo questo iPhone ha continuato a mantenere la stessa posizione in questo posto. Io vi sono andato diverse volte per vedere se riuscivo a trovare una posizione più precisa, ma purtroppo succede una cosa brutta con questo Find My, che spero aggiustino, così che si possa effettivamente utilizzare per prendere l'iPhone in modo molto preciso. Purtroppo Apple, quando ti avvicini troppo, crede che hai il dispositivo in tasca e quindi te lo attacca alla tua posizione. Se il tuo iPhone si sposta, in automatico sposta l'iPhone che stai cercando rubato nella tua stessa identica posizione. Questo quindi blocca, impedisce di capire la posizione precisa. Con questa serie di informazioni, la posizione dell'iPhone rubato e la serie di macchine in cui potrebbe essere, sono andato dalla costura, dai carabinieri, e vi ho detto ragazzi, qua possiamo fare un bel colpaccio e mettere dentro un bel ladro. Però loro non mi hanno ascoltato, essenzialmente mi hanno detto dammi il codice email e quello telefonico e noi andremo a vedere se registriamo delle conversazioni telefoniche o comunque dei movimenti di questo iPhone nel territorio, così che lo identifichiamo e lo andiamo a prendere. Se vi dico che ho la posizione, sto telefono probabilmente non lo utilizzeranno mai per chiamare, anche perché non lo possono sbloccare, dato che non sarà la password. Quindi siete dei furbetti, ascoltatemi, vi faccio capo della politica postale, prendiamo 100 ladri, signori, assumetemi, tanto sono maggiorene, potete farlo, chiamatemi. E quindi essenzialmente la mia speranza di avere qualche aiuto dai carabinieri è sparita. Nel giorno di qualche settimana, nonostante continuassi ad andare in questo posto per vedere degli spostamenti o comunque dei pattern particolari, non sono riuscito a trovare niente e l'iPhone ha smesso di inviare la sua posizione. Probabilmente perché o avrà finito completamente la batteria, no, non è vero, scherzavo, anche senza batteria la posizione viene inviata, oppure è stato disassemblato per pezzi, molto probabile, oppure è stato rotto, distrutto, oppure c'è ancora una tecnica che recentemente ho visto che hanno sbloccato, per sbloccare gli iPhone bloccati. Avevo visto che qualcuno ci ha fatto un video al riguardo, onestamente il mio cuore si è rotto in mille pezzi e ho preferito addirittura non guardarlo, perché è troppo triste come cosa. Se qualcun altro ha il mio iPhone è davvero triste. Quindi niente signori, sappiate che c'è questo strumento molto utile nel caso vi rubino l'iPhone, spero che questo video vi sia stato utile nel caso vogliate provare a trovare il vostro iPhone rubato e comunque ricordatevi di accendere Find My, vi potrebbe tornare molto utile. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per nuovi video. Ci si vede nel prossimo video, gente, e ciao!